Il PDL vuole scegliere le persone più adeguate che ricoprano i ruoli più importanti. Detto questo, per noi il criterio sarà quello della competenza del merito, non ci sono rivendicazioni, c'è la legittima richiesta di una giusta rappresentanza. Quindi mi auguro che questa partita si possa concludere il prima possibile. Noi continuiamo con la linea della responsabilità, certo la responsabilità non può essere infinita.